Maurizio Fugati, qual è la situazione economica nel nostro paese? Se guardiamo quanto sta accadendo adesso in tema di stipendi degli operai, prendiamo il caso Electrolux per esempio, questo è l'effetto dell'euro. Una volta quando un paese non era competitivo, cosa faceva? Svalutava la moneta. Oggi la svalutazione non possiamo più farla e per essere competitivi dobbiamo andare o a tagliare le tasse, ma l'Europa non ce lo fa fare perché dobbiamo rispettare il 3% del deficit, dobbiamo rispettare il rientro del debito pubblico, il fiscal compact, oppure bisogna tagliare il costo del lavoro. E per tagliare il costo del lavoro dove si va a incidere? Se si va a incidere, vogliono incidere, diciamo sulle buste paga. Allora le imprese, non potendo svalutare, non potendo tagliare le tasse e non potendo diminuire la spesa pubblica, perché questo è l'altro grande capitolo dove il nostro paese non vuole intervenire perché ci sono grandi zone del paese della spesa pubblica elevata, dove si può andare a tagliare? Si va a tagliare sul costo del lavoro. Il costo del lavoro vuol dire stipendi degli operai. Allora l'Euro, obbligandoci ad aumentare le tasse, obbligandoci a non svalutare, sta togliendo le garanzie e i salari ai lavoratori, i quali sono costituati a accettare questa situazione oppure l'impresa del localizza. Enrico Letta nel suo tour nei paesi arabi ha detto che la crisi economica è finita. Lei come gli risponde? Noi rispondiamo a quello che ha risposto Squinzi, il presidente di Confindustria, che ha detto che la visione del governo è troppo rosea rispetto a quella che hanno gli industriali. Gli industriali hanno una visione, diciamo purtroppo, del tutto negativa, quindi non rispondiamo come lega, gli facciamo rispondere da Confindustria. 24 ore fa sono usciti gli ultimi dati sul reddito degli italiani e sono ancora in ripasso. Molti sono vicini alla soglia della povertà. Sì, soprattutto al nord il calo c'è stato, c'è stato un calo da reddito, quindi del potere acquisto, in parte maggiore al nord. Questo sta a significare che la parte produttiva del paese ormai è in piena recessione anch'essa e questo ha ripercussioni sui salari dei lavoratori, sul reddito e quindi sui consumi alla fine sul generale dell'economia del paese.